Ora adesso siamo in casa con un compito del potestino di una città, ho fatto 100 paranzani, 180. Direi che sì, ma non è manca solo un paranzani, stiamo ancora a Cilano, sei no. Guarda che pena che facciamo! Guarda che pena che facciamo! Guarda che paga laAK. La medicina si stanno passando! Stavate capire Parlamento di Moivar Magari dice allunghi sopra e più alta di me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.